E' quello che si meritano, meritano di morire lentamente, di agonizzare piano piano, lontano da tutti, lontano dagli affetti, senza poter vedere le loro mogli, i figli, nessuno, nessuno. Proprio come me, in questa strafottutissima cella, ma andrà tutto bene. Persino quando eri incinta all'ottavo mese mi ha preso il calcio in tua pancia, allora io me la tenia stritta per proteggere mia figlia. E' così che la mafia divenne impresa. E poi entrarono nella cucina del nostro ristorante a volto scoperto. Lui gli fa, no, non toccate a mia mogliere, e intanto mi spinge contro uno dei killer. Questo mi vichia adesso e me lo mette dentro il lavandino. E intanto spara, ancora, ancora, spara, spara! L'ammazzarono di là da mia! Me lo saranno da! Me lo ammazzarono, capisti? Ed è per questo che sei venuta da me. Ancora, ancora non voliano, non voliano che parlassi. Sento ancora l'odore della polvere da sparo, mischino. Allora, avetti a decidere se fare la vedova con la testa bassa e il velo scuro o denunciare sto schifo. E allora via, la scorta, la località protetta. Ho trovato una nuova famiglia, persone che mi comprendono davvero. Ma chi me lo riporta indietro? Nessuno me lo riporta indietro. E al paese, l'infame sogno io, sogno io il fango, non chiti che hanno sparato! Requiem eterna am dona eis, Domine, et lux perpetua luce a teis. In memoria eterna erit justus, ab audizione mala non ti mevi. Requiem eterna am dona eis, Domine. Ma chi sapeva, non ha parlato. E adesso può solo pregare e pregare. Ma quei morti ce li avrà sulla coscienza, finché campa. Perché quei morti, a quanto pare, non sono morti. E che ancora parlano. Grazie. 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 Grazie.